Allora a tutti giocatori benvenuti in un nostro nuovo video, rivelate due carte dai Promotion Pack 2024 Due delle cinque carte del set che è esclusivamente reperibile partecipando ai Jamfesta Quindi qui semmai arriveranno sotto forma di import, quindi lo andiamo a vedere Prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito con tanto asfissiamento a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di Yugi, grazie mille, mi raccomando Lo ripeto perché è importantissimo però Allora va bene, detto dell'iscrizione vediamo che cosa fanno queste carte Mira e Macionko è il mostro con effetto Primo e secondo effetto con il nome di questa carta una volta per turno Se questa carta è nella mano possiamo rivelare tre carte nella mano E oppure te che con lo stesso nome delle carte nel cimitero dell'avversario Fino a ognuno di ciascuna carta E specialiamo questa carta Quando l'avversario tiene una carta ad un effetto E noi controlliamo questa carta evocata specialmente al primo effetto Possiamo mandare questa carta al graveyard Mandare una carta al deck o extra deck al cimitero Lo stesso nome della carta dell'avversario E negare l'attivazione A parte che... La best carta dei Mirror Match Ok, ho trovato il titolo, non sapevo come cacchio farlo La best carta dei Mirror Match Che in realtà potrebbe avere un suo utilizzo Però dobbiamo rivelare tre carte che sono uguali E vabbè, può essere comunque innegabile Se fosse stato magari una vocazione con effetto rabido Poteva essere interessante Perché comunque poteva essere Un'interruzione negata abbastanza Interessante Sì, anche perché anche nei Mirror Match Comunque delle carte cambiano Lasciando, vabbè, ovviamente Dot carte che sono necessarie Oppure magari le solite staple Però ovviamente le cambia di numero Quindi metterla non in un Mirror Match Potrebbe essere abbastanza... Molto rischioso Altro che abbastanza rischioso Anche sprecare magari tre slot per la side Forse non è il massimo Però potenziale potrebbe averlo Perché la Evo che è gratis E poi c'è una Egeta gratis Sempre Mirror e Mirror Però è un effetto interessante E poi abbiamo A Speculation Questo è a noi 2005-2005 Il mostro fusione Materiali Il mostro 2005 Di attacco più Di attacco più Più Un mostro coperto In posizione di difesa Con 2005 Di difesa o meno Possiamo Evocarlo una volta per turno Applichiamo i seguenti effetti In base alla sua posizione di battaglia In attacco Quale è l'attacco originale Del mostro dell'avversario Con l'attacco più alto L'attacco originale più alto In difesa Questa carta non può essere Sotto in battaglia Delle effetti della carta Possiamo tributare Un mostro in posizione di attacco Che controlliamo Un mostro coperto In posizione di difesa Che controlliamo Per evocarlo Specialmente Dal cimitero Ok Vogliono fare qualcosa Con i mostri flip Probabilmente Perché stanno uscendo robe Per i mostri flip Un po' A go go Quindi vediamo Potrebbe trovare la sua utilità Anche sì Perché Questo a parte Te lo puoi fare Anche con super poli Basta che ti avvi Un mostro coperto In difesa Quindi ci potrebbe anche stare Magari anche Nello shadow Appunto Perché comunque Un mostro 2005 Di difesa inferiore Ti riesce a calartelo coperto Un mostro 2005 Attacco più Glielo puoi togliere All'oppo Può essere comunque Una roba interessante In difesa Non si può spaccare Poi in attacco Si pompa Come se non ci fosse Un domani Interessante Ah i promotion pack Ovviamente sono questi qua Ve li faccio vedere E l'immagine Non è troppo grande Quindi Quindi insomma Però credo che si sia capito Il tipo di pacchetto Che tipo di pacchetto sia Quindi Il totale Delle carte Mi pare Erano 5 Nuove Mi pare Di avere Di avere 5 Carte Differenti In totale Però qui mi dice Ci sono 60 Dove l'ho letto No vabbè Numero ragazzi 5 Ho letto un 60 A caso Vabbè Detto questo ragazzi 16 17 dicembre Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo video E un saluto a tutti Riuscirò a correggere Prima o poi Il mio modo di parlare Anche se È difficile Ci provo Ma è difficile In un saluto a tutti Grazie.